Si va verso l'ufficializzazione della lista dei partiti, dei movimenti, insomma, che potremmo definire così antisistema. La lista denominata appunto Libertà. L'appuntamento è per sabato, 6 aprile, a Roma, al Teatro Quirino. Ieri vi avevo anticipato qualcosa, ma non avevamo ancora certezze da parte delle autorità pubbliche, in particolare della Questura. Oggi invece posso essere preciso. Allora, innanzitutto vorrei appunto precisare che noi avremmo voluto questa presentazione in una piazza. Sarebbe stato anche così un gesto emblematico, quello di essere in mezzo alla gente. Purtroppo però, per motivi di ordine pubblico, sabato a Roma si gioca il derby e tutte le forze dell'ordine disponibile saranno impegnate per quell'evento, per cui non ci hanno permesso di scendere in piazza. Dovremmo quindi fare questa presentazione all'interno del Teatro Quirino. Come sapete, tuttavia, si tratta di un teatro, diciamo, molto capiente, quindi non ci saranno problemi per i posti a sedere. Tuttavia, anche così, per motivi organizzativi, una vostra, non so, possiamo definirla un po' una specie di prenotazione via mail, sarebbe gradita. Quindi vi invito ad inviare una mail alla casella di posta elettronica Movimento per Little Exit. Naturalmente è scritto tutto attaccato, senza punti, senza l'apostrofo. Quindi, ripeto, Movimento per Little Exit. Little Exit senza l'apostrofo, mi raccomando, chiocciolagmail.com. Nella mail è sufficiente precisare che si ha intenzione di partecipare all'evento. Beh, non l'ho nemmeno detto, ma perché è scontato, direi, è ovviamente gratuito, eh. Comunque, se mandate la mail, specificate il numero delle persone partecipanti. Voi sapete che, vabbè, io sarei veramente felice di vedere la partecipazione di intere famiglie. Comunque, l'eventuale prenotazione via mail sarebbe ulteriormente gradita, anche così per raggruppare tutti i nostri sostenitori. Su questo punto, però, ecco, vorrei essere preciso per non creare equivoci di sorta. Allora, naturalmente la lista, intendo dire il simbolo, il logo, è unico, in tutta Italia. E come vi ho detto, al centro, in evidenza, ci sarà la scritta libertà. Mentre ovviamente i candidati saranno diversi nelle cinque varie circoscrizioni, ossia nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole. Certo, sapete che anche che si tratta di una lista che, così, i francesi chiamerebbero rassemblement, ossia è formata da diverse formazioni politiche, formazioni politiche che hanno un aspetto in comune, ossia quello di non riconoscersi nella vecchia politica. E cosa sia la vecchia politica? È presto detto. Tutti, ma proprio tutti quei partiti che oggi hanno loro esponenti che siedono nel Parlamento italiano, quella è la vecchia politica. Ecco, noi non ci riconosciamo nella vecchia politica. Guardate, cari ascoltatori, non è accaduto, certo, lo so, ma se avessimo eletto parlamentari nelle ultime elezioni nazionali, questi si sarebbero trovati soli, isolati in Parlamento. Non sarà così se alcuni di noi in queste elezioni europee fossero davvero eletti. Perché se entrassero a far parte del Parlamento europeo, beh, troverebbero, nel Parlamento appunto di Bruxelles e Strasburgo, troverebbero tanti amici, non sarebbero assolutamente isolati. Lì troverebbero veramente un gruppo estremamente nutrito di parlamentari provenienti da tutti gli altri paesi europei, parlamentari che sono nostri amici, nostri alleati, persone provenienti dalla società civile, con i quali noi condividiamo gli stessi ideali. In primis, direi a pari merito, l'uscita dall'Unione europea è un fermo no alla guerra. Specificato quindi che la lista è unica, come può, diciamo, l'elettore evidenziare per quale di queste formazioni politiche appunto vanno ai suoi favori. La risposta è veramente semplice, attraverso le preferenze. In queste elezioni, e a maggior ragione in una lista composita come la nostra, le preferenze sono più che importanti, sono fondamentali. Non basta una X sul simbolo, certo, è indispensabile, ma occorre anche indicare il nome dei candidati che voi preferite, che voi vorreste fossero eletti. Ma questo, diciamo, è un aspetto che d'ora in poi lo ripeterò, insomma, fino alla noia. E sarebbe anche molto bello che all'evento di sabato, al Teatro Quirino, siano proprio i nostri simpatizzanti, i simpatizzanti di movimento per l'Ital Exit a fare la parte del leone e quindi, insomma, presentarsi in maggior numero. Sarebbe davvero un bel segnale. E per finire, insomma, veniamo a noi, ossia ad un aspetto personale. I candidati, in un lasso di tempo che va, insomma, dalle 14 alle 16, dovranno espletare una pratica burocratica, ossia devono firmare l'accettazione della candidatura davanti ad un notaio. ebbene, questa formalità si esplica in pochissimi minuti per ogni candidato. E il notaio sarà proprio lì, cioè adiacente al Teatro Quirino. Quindi io avevo intenzione di fermarmi in quel lasso di tempo e approfittarne così anche per incontrarmi con voi. Quindi coloro che parteciperanno all'evento che, ripeto, inizierà alle 11, ma non solo loro, naturalmente, tutti coloro che avessero piacere nello scambiare quattro chiacchiere o una battuta con me, ecco, io sarei disponibile anche così indicativamente dalle 14 alle 16 davanti al Teatro Quirino. Un'ultima cosa prima di terminare. Tutti i politologi concordano su un fatto. Si ritiene che le persone che, diciamo, non hanno un credo politico, anzi sarebbe più corretto dire partitico, ma che tuttavia vogliono recarsi alle urne, ebbene, queste persone, sempre a detta di questi politologi, deciderebbero per chi votare solo negli ultimi giorni della campagna elettorale. E quindi sempre questi politologi giungono alla conclusione che i partiti dovrebbero concentrare tutta la loro campagna elettorale nelle ultime due settimane. Ebbene, tutto ciò magari è vero, non lo so, ma noi, noi del movimento per l'Ital Exit, abbiamo bisogno fin d'ora, da subito, della vicinanza dei nostri sostenitori. Per una formazione politica come la nostra, insomma, praticamente all'esordio, sentire l'affetto dei nostri sostenitori è importante. anzi direi che la, come posso dire, la positività, la fiducia che nasce con il contatto con le persone è determinante. La partita si può decidere anche dall'atteggiamento con il quale si inizia la campagna elettorale. Vi aspetto sabato.